Ben ritrovati, sono in compagnia di Alberto Coviello di Affinion, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Appena terminato un interessantissimo speech parlando appunto di quello che è il cybercrime non soltanto in Italia ma anche a livello internazionale, sono stati sciorinati alcuni dati davvero un po' paurosi. 16 milioni di vittime nel 2017 soltanto in Italia del cybercrime, giusto? Sì, è un valore molto importante, è un valore anche aggiornato, quindi che dà la misura dell'entità di questo fenomeno non solo nel mercato italiano ma anche nel mercato globale. Abbiamo citato il fatto che a livello globale quasi un miliardo di persone siano state vittime del cybercrime e questo è un aspetto che colpisce non solo un grande numero di persone ma anche è importante dal punto di vista del tempo necessario per i consumatori per risolvere queste tipologie di attacchi. È stato stimato come mediamente ogni persona oggetto di cybercrime impieghi tre giorni per risolvere il problema che gli è stato creato. Quindi una perdita di valore, di produttività ma anche di tempo libero che non ha uguali forse in questo momento. Eppure nonostante le vittime del cybercrime continuino a crescere è percepito molto più alto il rischio personale piuttosto che il rischio online, giusto? Allora il tema da questo punto di vista è dibattuto nel senso che quello che abbiamo riscontrato noi è che c'è una decisa consapevolezza da parte dei consumatori nei confronti del rischio online. Eppure questa consapevolezza non si trasforma nella capacità di capire quali sono gli strumenti da utilizzare per coprirsi da questo rischio. Per cui è vero il contrario. I consumatori quasi inspiegabilmente sono più preoccupati per il rischio online che di rischi reali tangibili quali il furto della macchina o essere oggetto di una rapina in casa. E noi ci spieghiamo questo aspetto proprio con la mancanza di educazione e informazione sulle contromisure da adottare nel caso del cybercrime. Quindi la consapevolezza che il rischio esiste c'è, non c'è la consapevolezza dei strumenti di difesa. Esatto. Secondo noi manca la formazione, mancano gli strumenti e manca anche la facilità di utilizzo di questi strumenti. Il consumatore non sa come proteggersi. Al di là di quelli che sono gli strumenti che quotidianamente utilizziamo. Penso che quasi tutti gli utilizzatori di un computer abbiano un antivirus. Ma il cybercrime non è solo prendere un virus. È un tema molto più ampio e proprio oggi abbiamo citato il caso dei data breach che prevedono la sottrazione di informazioni personali dai database delle aziende che ci forniscono i servizi che utilizziamo. E quindi questo è un tema che va affrontato con strumenti diversi, quali ad esempio quelli del monitoraggio delle informazioni online che tipicamente il consumatore non ha. Quando il cybercrime riguarda il consumatore singolo si ferma magari alla perdita di dati, sia la perdita dei mail, ma quando riguarda l'impresa i danni possono crescere esponenzialmente. C'è più consapevolezza da parte delle imprese di questo rischio? Allora, secondo noi sì, anche perché la recente entrata in vigore della GDPR, che è come dire, una dei topic più caldi di quest'anno, ha forzosamente costretto le imprese a essere consapevoli degli effetti di un'intrusione informatica e del data breach. Tanto è vero che c'è l'obbligo di notifica e ci sono anche delle sanzioni nei casi in cui questo non venga effettuato. Quindi c'è maggior consapevolezza delle imprese, non sarei così sicuro che ci sia anche in questo caso un'adeguata messa in opera di strumenti atti a prevenire e bilanciare questi rischi. Intanto Finion ha proposto anche un'iniziativa concreta durante questo evento, sono state distribuite queste cartoline all'ingresso, a cosa servono? Sì, è un'iniziativa simpatica, abbiamo arruolato tre hacker molto benevoli, devo dire, che distribuiscono queste cartoline che i partecipanti al convegno possono compilare e inserite in un'urna ci permetteranno di verificare se le informazioni inserite, come ad esempio l'indirizzo email personale e quello aziendale, sono state oggetto di un data breach, quindi un piccolo passaggio per aumentare la consapevolezza anche dei partecipanti. Bene, grazie di essere stato con noi.